Salve a tutti, questo qua non sarà un video tutorial, ma è un video per presentarvi un video che ha fatto il mio compagno di banco insieme a sui due amici. Il video fa scantare dalle risate, quindi non mi perdo troppo in chiacchiere e vi lascio al video che segue. Se ci cliccate sopra il video non si pauserà, ma vi porterà al loro canale. Per ora hanno caricato soltanto un video, ma ne stanno già lavorando altri, quindi seguiteli, ne vale la pena. La prima cosa che devo fare? E' raggiungere la cima di quest'altura. Fressa! Fressa! Siamo quasi arrivati in cima. Sei settimane fa una cotta di turisti americani è stata aggredita mentre esplorava questo territorio. Fressa! Fressa! Grazie a tutti.